bentornati oggi vi faccio vedere come si fa a realizzare l'effetto goldfinger sui nostri ritratti vedete che per l'occasione abbiamo qui un'immagine aperta su cui abbiamo già provveduto a pennellare su quello che è l'incarnato del nostro soggetto adesso andiamo a spegnere la maschera il nostro pennello è sempre attivo e quello che andiamo a fare è che andiamo a modificare la temperatura e vedete che il nostro soggetto comincia a tingersi d'oro a questo punto possiamo lavorare un pochettino sulla selezione che abbiamo fatto fino a quando non ci sembra più o meno convincente ed ecco qui vediamo il prima e il dopo effetto goldfinger o pelle dorata è servito